ciao a tutti e mentre la biblioteca è chiusa noi in realtà stiamo sistemando il patrimonio abbiamo messo in deposito un po di materiale qualcosa sta ancora aspettando di essere messo via ovviamente per appunto liberare gli scaffali renderli più organizzati ci sarà un nuovo monitor per visualizzare meglio le iniziative sopra il banco prestiti marco lo sta sistemando come vedete qui in fondo invece anche se non sembra ma fervono i preparativi per la giornata del 14 marzo il pomeriggio una giornata che sarà dedicata alla matematica ai giochi ai rompicapo e non so se sentite questo fastidioso sottofondo ma stiamo ovviamente anche dedicandoci ad alcune pulizie particolari se ne occupa il nostro casalingo di fiducia alessandro eccolo qua adesso vi faccio vedere dove da dove è partito con l'aspirapolvere stiamo ripulendo a fondo tutta la zona bambini le ceste dei libri abbiamo pulito bene anche le sedie e speriamo di riaprire ancora più splendenti di prima